Oh boy, è aperta! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, posso mettere pausa? Non posso mettere pausa! Dio santo, lontaniamo lo schermo! Fuori c'è il sole, va tutto bene! Quanto cazzo va avanti sta roba? Ma mi mettere pausa! Ma vaffanculo, ma che inizio di live di merda! Cioè, non che inizio di live di merda, che palle! Quanto cazzo va avanti sta roba? Santo Dio, santo Dio, santo Dio, santo Dio... Santo, tio. Al tappettino. Cazzo, io ne ho droppate due, dici che no, va bene. Tutti assieme, yeee! Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ah, ah, tua madre, troia, vacca, merda, stronza. Quanto cazzo! Quanto cazzo! Quanto cazzo! Quanto cazzo! Quanto cazzo! E cagare, tanto sei vero o nulla! Quanto cazzo! Quanto cazzo! Quanto cazzo! Quanto cazzo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Madonna... Ancora costruire sta roba che rottura di coglioni. Nel gioco intendo star qua, pezza scala per scala, vabbè no, avrò fatto un copia e incolla dopo un giro, tipo... Grazie a tutti. Sono smutato. Sì, ok. Dai, basta. Sono... No... 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 Cazzo, ne so. Qualche cazzo emotivo, qua si ritorna a vedere qualcosa. Oh, fermi tutti, mi son tolto la stream di Isaac, hold on, nella mia compagnia, che mi faccia tenere la sanità mentale. Posso arrivare alla fine, qualsiasi cosa ci sia? Te prego. Mamma mia, che paura. Mamma mia, che paura. Beh, chissà qual è la mia Y a sto punto, meno 100 miliardi. Non so perché sta diventando tutto blu, soprattutto se la torcia è spenta. Non so perché sta diventando tutto blu. Non so perché sta diventando tutto blu. Non so perché sta diventando tutto blu. No so perché sta diventando tutto blu. Ma sono attNία in fondo leowa. No so perché sta diventando tutto blu. Ho ciao. Grazie a tutti. Che cazzo sta succedendo? Clippo. Clippo nei muri. Non è anche abbastanza tappetino per fare sta roba. Che cazzo sta succedendo? 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 ... ... ... ... ma che cazzo sta succedendo e comunque vedo attraverso i muri hallo is anyone there no non mi ricordo cos'è hello it's me i've been walking on this motherfucking stairs for too long vabbè stiamo decisamente impazzendo cioè siamo decisamente andati fuori di test bene che idea di merda sto a fare tutto così qua invece vedo i muri pulsare quando non c'è clip sennò vedo la texture ai oto ai oto non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è C'è troppo qualcosa adesso? Oddio, che casino Non si vede un cazzo 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 Basta di save error nulla Si sta facendo più stretto? Non si vede un cazzo Non si vede un cazzo Bro quanto cazzo dura? Non si vede un cazzo Non si vede un cazzo Perfetto, non posso neanche più correre Non si vede un cazzo Robere Ok? Non si vede un cazzo 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 3.5 Ok, stiamo pure sognando gli hamburger Non si vede un cazzo I, stiamo pure sognando le Ok, non abbiamo più sleep, addio. Tu mi stai a dire che fa tutta sta roba per un cazzo di niente?